Cosa prevede il bilancio di previsione del Comune di Ponte Nossa? Beh, innanzitutto abbiamo confermato tutte le aliquote che riguardano ad esempio l'addizionale IRPEF, Tari, Tasi, confermando le stesse aliquote dello scorso anno, quindi non ci sono stati aumenti. Per quanto riguarda le opere pubbliche è stato provato il triennale e in particolare, come penso ormai se ne sia già parlato, sia abbastanza nota che fa parte della programmazione di Ponte Nossa, quest'anno interverremo sul Casa Anziani, un intervento da circa 300 mila euro che dovrebbe essere al via tra poche settimane. Nel 2017 dovremmo, se tutto va bene, abbiamo in animo di intervenire sull'edificio delle scuole medie. Ricordo che le scuole medie di Ponte Nossa sono utilizzate sia dagli alunni di Ponte Nossa che di Paremolo e nel 2017 un intervento corposo sulla viabilità che comunque potrebbe essere un intervento che andrà modificato all'interno del triennale in quanto come Valle Seriana e come comunità montana si stanno esprimendo pareri diversi e per quanto riguarda Ponte Nossa la priorità ovviamente è all'incrocio della extrazione. Quindi è un triennale che per quest'anno e per l'anno prossimo dovrebbe confermare due interventi, per il 2018 invece potrebbero esserci delle modifiche. Altre delibiere nel Consiglio, una in particolare, togliamo dalla disponibilità dell'utilizzo al pubblico di una sala presso Casa Anziani in quanto stiamo razionalizzando gli edifici di proprietà comunale e per quanto riguarda appunto questa sala che è disponibile dagli anni Ottanta, siccome poi successivamente fu realizzata la scuola elementare che dà la possibilità di utilizzo anche della sala Tommaso Caffi per quanto ci riguarda resterà disponibile la sala Tommaso Caffi e questa sala invece in Casa Anziani diventerà la nuova sede di tutti i gruppi e di tutte le associazioni quindi andremo a chiudere l'appartamento attualmente sede di tutti i gruppi e associazioni che ha di sopra la biblioteca e che sarà oggetto probabilmente di allineazione o di vendita quindi stiamo cercando di razionalizzare anche il patrimonio dell'ente. E il semaforo? Quando è che avete intenzione di installarlo? Il semaforo è un progetto che abbiamo sul tavolo, è un progetto che è stato realizzato dalla provincia è ovvio che nessuno o comunque non è nostra intenzione installarlo sino a quando non sarà chiarita la tempistica di realizzazione rotatoria che sia per comunità montana sia per provincia è uno degli interventi prioritari a questo punto mi sento di poterlo dire con serenità uno degli interventi prioritari della Valle Seriana quindi il semaforo è un'ipotesi che non scartiamo a priori ma che dobbiamo con cautela valutare nel momento in cui sapremo i tempi di realizzazione della rotatoria per quanto mi riguarda la sicurezza sta al primo posto sicuramente un semaforo in quel punto provocherà problematica la viabilità noi non vogliamo danneggiare i cittadini della Valle Seriana ma vogliamo comunque anche garantire la sicurezza non solo dei cittadini di Ponte Nosso perché ricordo da quell'incrocio transitano quotidianamente circa, anzi oltre 20.000 auto quindi la sicurezza è fondamentale verificheremo nelle prossime settimane le novità che dovrebbero garantirci la tempistica di realizzazione della rotatoria